innanzitutto bisogna capire quali sono i requisiti del marchio perché è fondamentale facciamo una piccola premessa un po noiosetta di due minuti per poi andare a qualcosa di un po più interattivo che vi faccia capire come funzionano le banche dati dove è necessario ricercare i marchi allora i requisiti del marchio sostanzialmente sono tre uno dovreste mai averlo capito la capacità distintiva cioè un marchio non deve essere descrittivo ad esempio per succo d'arancia io non posso registrare il marchio verbale succo d'arancia perché quella quelle due parole devono poter essere utilizzate da tutti e inoltre il marchio non assolverebbe la sua funzione cioè quella di permettere ad un consumatore di distinguere i prodotti di un imprenditore da un altro imprenditore quindi capacità distintiva uno dei requisiti fondamentali non fate marchi che sono nulli come ad esempio succo d'arancia per per succo d'arancia o ad esempio cellulare cellulare più per un un cellulare quelli sono nulli non ve li fanno passare poi un altro requisito è la legalità cioè un marchio non deve essere contrario alla legge ordine pubblico e buon costume ad esempio un marchio che contiene una parolaccia è nullo e viene rifiutato dall'ufficio o anche un è capitato un marchio che conteneva un disegno erotico è stato bocciato dall'ufficio dissi al cliente guarda questo secondo me non passa no procediamo procediamo ovviamente il marchio non passò perché era contrario il buon costume e poi il terzo requisito che l'ho messo per ultimo perché è quello che riguarda le ricerche di anteriorità cioè un marchio deve essere nuovo ma cosa vuol dire che deve essere nuovo un marchio per passare diciamo per essere lecito non deve essere identico o simile ad altri marchi o segni come ad esempio un insegna già noti nel territorio o già registrati e depositati come marchi che cosa vuol dire in caso di identità è facile capire il divieto se voi fate fanta per succo d'arancia non potete fare fanta per succo d'arancia cioè un caso di identità assoluta se invece voi fate fantucci per succo d'arancia qui c'è una similitudine e in questo caso bisogna andare a vedere se sussiste un reale rischio di confusione per il consumatore quindi i due marchi vengono messi uno vicino all'altro se c'è il rischio di confusione allora il marchio anteriore prevale sul marchio successivo quando è che non sussiste un rischio di confusione nel caso ad esempio di fanta fantucci fanta fantucci per succo d'arancia ci può essere un rischio di confusione perché la radice è identica lasciando stare che il fatto che fanta è un marchio notorio che quindi ha una tutela maggiore però fanta fantucci hanno la stessa radice e il marchio anteriore è completamente incluso nel marchio successivo inoltre che cosa succede in fanta fantucci per succo d'arancia vanno a rivendicare i stessi prodotti e servizi quindi in quel caso il consumatore medio può essere indotto a pensare che ci sia un legame tra la fanta e la fantucci e sostiste il rischio di confusione diverso sarebbe stato il caso se la fantucci fosse stata registrata per tubi idraulici in quel caso tra fanta succhi d'arancia e fantucci tubi idraulici non ci sarebbe stato un rischio di confusione ovviamente poi un'eccezione i marchi notori come fanta come coca cola hanno una tutela automatica su tutte le classi merceologiche quindi ci sarebbe nel caso di fanta confusione anche con fantucci dubi idraulici però quella è una cosa che riguarda soltanto i marchi notori ma dov'è che si deve andare a fare la verifica questo dipende un po dagli uffici dove voi volete andare dal territorio dove voi volete andare a depositare il vostro marchio se voi volete andare a depositare in italia non dovete controllare soltanto il registro dei marchi italiani cioè quello dell'uibm ma dovete andare a controllare quello dell'uibm quello dell'euipo cioè l'ufficio comunitario perché ogni marchio comunità europeo adesso si chiama ogni marchio europeo ha efficacia su ogni singolo territorio dell'europa della comunità europea e quindi anche dell'italia e inoltre vanno controllati anche i registri del wipe o dell'ompi perché il lump il wipe o sarebbe il marchio internazionale il marchio internazionale diciamo è una cosa un po complessa non è un marchio unitario come quello dell'euipo ma è un fascio di marchi quando si fa una domanda all'euipo si designano i diversi paesi in cui si vuole ottenere la registrazione e tra i paesi che si possono disegnare vi è l'italia e anche le comunità europee quindi bisogna sempre controllare tutti e tre questi registri per l'ultimo cioè quello dell'uipo bisogna controllare quei marchi wipo che rivendicano italia o comunità europea poi se ovviamente devo andare ve lo dico perché questo non lo fa nessuno a depositare un marchio alle wipo cioè in comunità europea non dovrò controllare soltanto il registro dei marchi italiani ma anche quello di ogni singolo paese che compone la comunità europea questo perché perché un marchio italiano non deve essere in conflitto con marchio italiano anteriore marchio wipo o marchio wipo che rivendica italia o europa un marchio europeo e wipo non deve essere in contrasto con un marchio italiano un marchio wipo che rivendica ue o singoli paesi europei e i marchi francesi tedeschi spagnoli croati di tutti i paesi che compongono la comunità europea quindi quando si deposita in europa bisogna stare un po più attenti perché può essere più pericoloso ovviamente aumenta la platea degli uffici e aumenta il rischio di trovare delle anteriorità allora andiamo a vedere quali sono i registri per questa verifica allora i registri sono quello uibm banca dati dei marchi italiani e wipo e quello dell'ompi wipo i marchi internazionali allora adesso andiamo a vedere non so proviamo a scrivere visto che ne abbiamo parlato della fanta proviamo a scrivere qui sulla textaria scriviamo fanta questo è un sito tmv della comunità europea ci permette di andare a controllare i marchi depositati registrati non solo presso l'ufficio comunitario ma anche presso molti dei paesi nazionali francia italia dicendo ovviamente non abbiamo un'attendibilità al cento per cento come software a pagamento però è un buon sito quindi prima di scegliere un nome di pagare un grafico magari fate un check qui e così evitate di buttare soldi allora siccome contiene tmv molti paesi andiamo a fare una selezione sotto scendiamo giù andiamo su territori clicchiamo su territori vogliamo depositare un marchi in italia quindi di tutti questi territori non ci interessa nulla africa asia non dell'unione europea c'è europa non un'unione europea ci interessa solo l'italia quindi noi andiamo clicchiamo qui e andiamo a cercare italia che cosa vogliamo andare a vedere vogliamo andare a vedere in quale classe merceologica non l'ho spiegato questo scontato che fosse nella conoscenza di tutti quando si deposita un marchio è necessario rivendicare delle classi merceologiche che sono 45 la quella del del succhi d'arancia è la 32 quindi noi andiamo a cliccare andiamo a scegliere la classe 32 eccola qui e poi facciamo ricerca e vediamo un po che cosa esce fuori da tutti i marchi con efficacia in italia con che contengono la parola fanta sulla sinistra qui potete fare una maggiore selezione ad esempio non mi interessano i marchi scaduti expired o terminati perché ad esempio sono stati ritirati allora andiamo a selezionare soltanto i depositati e registrati gli expired sarebbero da sarebbero da lasciare quando si ha il timore che un marchio possa aver ricevuto un'opposizione perché ad esempio è simile ad un marchio notorio allora voglio andare a vedere se è stato depositato un marchio simile e se ha ricevuto un'opposizione ad esempio se avessi armanucci vi lascio anche gli ended e gli expired così vedo se armani li ha attaccati adesso mettiamo solo file di registra queste altre cose di selezione non ci interessano qui nella sinistra mettete è che così non va in tilt e ci dà solo quelli fanta che fate ricerca allora come dicevamo prima qui ci dà la riproduzione grafica la parte verbale fanta data della domanda non mettetelo in ordine perché se no si impalla i prodotti servizi come vi dicevo quando si deve depositare un marchio è necessario rivendicare delle classi e questo ha rivendicato la classe 30 dolci pane derivati 32 bevande alcoliche e vire 33 ci vediamo anche ci vediamo anche sotto se ci passate e le bevande alcoliche il vino il primo marchio è expired è scaduto perché probabilmente è stato depositato nel 2008 quindi è scaduto nel 2018 dieci anni dal deposito questo più o meno vale per quasi tutti i paesi del mondo hanno alcuni paesi che prevedono che i dieci anni decorrono dalla registrazione questo è stato depositato alle uipo ok qui abbiamo il numero di domanda e a destra la la compagnia allora invece quando è italiano abbiamo italia uibm ok qui scendiamo giù ci sono tutti quelli expired ok poi che cosa possiamo vedere qui siamo curiosi di capire la fanta e vogliamo vedere le statistiche vediamo clicchiamo su statistica e vediamo che questo allora ci sono 14 sono expired 25 sono stati registrati quali prodotti ne abbiamo la classe 32 è stata ci sono tutte le classi merceologiche in cui sono stati registrati i marchi fanta e vediamo che la 32 è quella di maggior interesse per questo per questo termine qui ci dice anche i singoli prodotti tipo di marchio ci dice se è un marchio figurativo oter o verbale figurativo è il marchio con un con un logo come ad esempio il mulino bianco o con una scritta particolare come ad esempio coca cola anche un marchio semplicemente verbale ma su due righe è un figurativo oter può essere la bottiglia della della fanta è un marchio di forma o word è un semplice marchio verbale in carattere standard su unica riga poi territori qui abbiamo indicato europa quindi ovviamente ci dà non ci dà il resto del mondo nomi dei richiedenti ci dice che la maggior parte dei richiedenti sono la coca cola e poi ci ci sono anche altri marchietti in particolare una nome di azienda agricola carosella e una a nome di bulletproof una cosa che non vi ho detto se a voi serve perché magari dovete portare nella vostra azienda il risultato della ricerca fate in alto qui a sinistra esporta ci sono tre possibilità tre modalità consiglio sempre il pdf perché gli altri si bloccano con il sito invece con il pdf me lo vi da la schermata in pdf potete potete mandarla al farla vedere a terzi o mandarla via mail poi un'altra cosa che non vi ho detto visualizzazione espansa qui a destra in alto ci dà i particolari cioè è lo stesso elenco di prima se scendete però su ogni marchio ci dà il dettaglio ovviamente io adesso vi faccio vedere come si fa una ricerca per facilitare un po magari la scelta della parte verbale però l'interpretazione di un risultato di ricerca è sempre una cosina un po complessa registrare un marchio non è come un nome a dominio registro il nome a dominio poi lo lascio là si sta chiedendo un monopolio sul segno c'è tanta concorrenza quindi è capace che vi trovate una misura cautelare che vi blocca l'attività rischiate pure il risarcimento denale insomma bisogna sempre stare attenti poi ovviamente una cosa quando si fa una ricerca bisogna sempre vedere un po questa è una tecnica di noi consulenti marchi bisogna anche vedere chi sia davanti nel senso che se io faccio una ricerca e trovo un marchio proprietaria è Silvia Carbonaro ditta individuale un po di persona fisica così ovviamente è difficile che mi fa un'opposizione che l'ho detto magari me la può fare però è più difficile se davanti mi trovo la film morris incorporation è sicuro al 90 per cento che riceverò un'azione legale cioè quando il vostro marchio è simile a una ditta notoria state attenti perché sicuro attaccano in particolare quegli americani sono cattivissimi la disney è cattivissima attacca chiunque si avvicina e gli americani sono piuttosto quindi se vi se vi trovate qualche marchio anteriore di proprietà di una di una nota marca la nota azienda state attenti pensateci due volte non avvicinatevi proprio guardate cercate di vedere che la lunghezza non sia la stessa è inutile aggiungere parole ad esempio aicos carbonaro non mi cambierebbe assolutamente il il problema ma aicos della film morris mi attaccherebbe e vincerebbe anche se con l'aggiunta di carbonaro vediamo qui che altra informazione ecco questo ci dice che è l'euipo qui posso mettere la lingua dei prodotti vediamo se funziona se non vai si impalla qualcosa mi l'ha data ha tradotto questo è uno strumento molto comodo poi vediamo che cosa possiamo vedere qui a ricerca poi ovviamente qui abbiamo la possibilità di fare contiene quindi contiene la parola aicos inizia con aicos e termina con o è tenete conto che le somiglianze nella parte iniziale del marchio sono sempre tra le parti tra le due parti iniziali sono sempre più pericolose per esempio l'esempio di prima fantucce e fanta la parte iniziale è identica questo è più pericoloso perché nei giudizi di comparazione tra marchi l'esaminatore tiene in considerazione il fatto che il consumatore legge da sinistra a destra quindi la parte iniziale è quella che rimane più impressa nella mente di un consumatore se voi trovate un'identità nella parte anteriore del marchio cambiate quella parte perché è più pericolosa rischiate di perdere una posizione con maggiore facilità qui potreste fare anche la ricerca per immagine però è difficile non i risultati su questo non sempre riescono ma va in tilt poi ovviamente se voi avete un logo con un mulino vi escono 10.000 mulini ricordate che se fate una ricerca per immagine mettete specificate sempre la classe perché se non riescono migliaia di risultati allora ricerca avanzata mettiamo un'altra parola mettiamo mettiamo valentino valentino mettiamo territori mettiamoci soltanto unione europea leviamo qui prodotti e servizi ci mettiamo cosmetici e abbigliamento chi fa abbigliamento facciamo anche il cuoio le lavorazioni e l'abbigliamento quindi classe 3 18 e 25 codice di pierna che cosa sono allora un casino sono praticamente è la classificazione dei delle immagini se voi dovete fare un un cellulare stilizzato è classificato e quindi vi escono tutte le immagini ci possiamo provare però un casino vedete corpi celesti fenomeni naturali carte geografiche sono in 0 1 poi ci sono le sottoclassi stelle comete sole adesso non lo mettiamo perché secondo me potrebbe andare in palla quindi meglio evitare stato del marchio mettiamo attivo tipo di marchio non mettete niente figurativo verbale lasciate stare perché mi è andato incastrare e proviamo a fare la ricerca allora cosa vediamo qui vediamo che il valentino valentino sp a è il nostro valentino nazionale probabilmente e vediamo che registrato in francia nelle classi ha fatto anche i farmaci sa perché la classe 5 e vabbè quelli ingrossi fanno un po tutto 14 gioielli eccolo qui articoli pilletteria abbigliamento cosmedici valentino sp a vediamo se c'è qualcuno che non è valentino sp a c'è questo mario valentino sp a che non so chi sia però ha registrato non so se è sempre mario valentino cioè se lui è valentino so come si chiama qui vabbè ce ne sono wolf srl in classe 18 è passata questo è strano perché è di solito una cosa del genere deve essere sfuggita poi in italia nel 92 forse c'è un accordo quindi non diamo per scontato che se troviamo un marchio anteriore valentino allora posso fare valentino per abbigliamento perché magari la wolf e il cugino c'è un accordo magari stanno adattati oppure la wolf è sempre valentino valentino per abbigliamento non lo potete fare palese che ce ne sono veramente tanti a nome suo grazie a tutti